Si è presentato questa mattina alla stampa cittadina il nuovo soprintendente ai beni architettonici di Napoli. Luciano Garella, 62 anni, architetto, originario di Santa Maria Capoavetere e con una lunga esperienza professionale al Ministero dei Beni Culturali e in diverse soprintendenze italiane. Subentra Giorgio Cozzolino che ha lasciato da poco gli uffici di Palazzo Reale. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di una soprintendenza probabilmente la seconda d'Italia. Sul Napoli ci sono credo 21 architetti, attualmente a Roma, che è solo comune di Roma, credo che siano 14 o 15. Quindi c'è sicuramente una, come dire, è rappresentativo anche di una significativa densità di patrimonio culturale, di monumenti. Intendo improntare la mia azione al dialogo e al buonsenso, ha detto Garella, anche in risposta ai solleciti sui rapporti che intende costruire con gli altri interlocutori cittadini e in particolare con l'amministrazione comunale. Se uno leva a Napoli la vivacità del suo tessuto sociale, io credo che vanifichi veramente proprio il senso stesso della città, l'anima della città. Cioè Napoli è sempre stata una città di cultura e di commercio e anche se mi consentite la licenza espressiva, anche un poco di ammuina. La qualcosa non guasta se è espressione di un carattere anche allegro, simpatico, gioioso e anche un po' problematico talvolta dei napoletani. No, io credo che questo sia... le città mummificate non hanno senso, non piacciono nemmeno più al turista. Cioè il turista viene a Napoli perché c'è questa, come dire, quest'atmosfera.